10 minuti di profondo terrore per 10 persone che si trovavano ieri pomeriggio nella filiale della cassa di risparmio a Villa Franca d'Asti. I rapinatori poi arrestati sarebbero risultati far parte della cellula piemontese dell'Andrangheta calabrese coinvolta la scorsa settimana nell'operazione Minotauro ma andiamo per ordine mentre scorrono le istantanee delle telecamere di sorveglianza della banca. Sembra un film, uno dei rapinatori entra per un sopralluogo, lo vediamo con un depliant in mano, poi esce, si mette una maschera di ottima fattura, nel frattempo entra l'altro che si copre il volto con le mani e dà un cappellino da pescatore sul capo, i due tirano fuori le armi, due revolver Smith & Wesson calibro 38, entra un cliente nella banca e viene subito bloccato, gli impiegati e gli altri clienti vengono messi in riga ed accompagnati in un'altra stanza dove gli vengono legate le mani con le fascette da elettricista, a questo punto si fanno consegnare il denaro, oltre 20 mila euro fra banconote in euro, sterline e franchi svizzeri, poi fuggono ad attenderli un complice su una Fiat Punto rubata a Torino due giorni prima, un colpo da professionisti attuato senza panico ma con estrema rapidità, non più di 10 minuti ma con un fatto imprevedibile, una passante vede quanto sta succedendo in banca e chiama il 112, la rete antirappina del comando provinciale dei Carabinieri scatta immediatamente, partono le volanti anche dal comando di Villanova d'Asti e da Volpiano viene fatto alzare un elicottero, tutti convergono su Villafranca, la Punto viene incrociata da una pattuglia, la segnalazione permette l'intercettazione della radio mobile di Villanova, viene ingaggiato un inseguimento sul filo dei 200 all'ora fino a quando in località San Sebastiano di Valfenera la Punto sbanda e finisce fuori strada, due rapidatori vengono subito immobilizzati, con loro il bottino e le pistole, il terzo fugge in un bosco ma viene scovato, nascosto in un fosso, poi la sorpresa, uno dei tre rapinatori è Giorgio Liporace Cotroneo a 51 anni e risulta arrestato la scorsa settimana nell'operazione Minotauro sulla cellula torinese dell'Andrangheta calabrese, era agli arresti domiciliari perché risultava invalido, si è giustificato dicendo di aver compiuto la rapina per poter pagare l'avvocato. In realtà le modalità con cui hanno operato i rapinatori, come ad esempio il fatto di essersi cosparsi polpastrelli di Attac per non lasciare impronte nella banca, fanno pensare ad una banda ottimamente organizzata, affiliata all'Andrangheta. Le modalità del fatto di notare un indubbio professionismo, siamo convinti che non fosse la prima rapina, siamo preoccupati e stiamo cercando di approfondire gli aspetti eventualmente legati alla criminalità organizzata. Tutti residenti nel Torinese, tutti e tre i rapinatori hanno origini calabresi, gli altri due sono Maurizio Crucitti di 47 anni ed Ettore Pateri di 54 anni. L'accusa è di rapina aggravata dal sequestro di persona, una brillante operazione dunque dei carabinieri giocata sulla tempestività dell'intervento. La tempestività che devo sottolineare è anche il frutto della collaborazione dei cittadini che in questo caso con una telefonata tempestiva al 112 ci hanno consentito una risposta immediata, risposta che poi il comando tramite i servizi di Nato ha cercato di concretizzare in questo caso riuscendoci. Ed un'altra rapina è stata tentata la notte scorsa all'ufficio postale di Corso Galileo Ferrari, si banditi hanno cercato di far saltare la serratura del banco mat esterno, la deflagrazione avvenuta verso le 2.30 è stata molto forte ma fortunatamente l'esito è stato negativo, il forte Boato ha svegliato gli abitanti della zona ed ha fatto accorrere le volanti della questura ed i tecnici della scientifica per i rilievi del caso. E' velocemente in chiusura, per gli appuntamenti segnaliamo l'assedio di Canelli, la rievocazione storica del 1613 giunta alla ventesima edizione, Castello in Musica a Montilio Monferrato, la Sagra del Masenga ad Isola d'Asti e Cammina Cammina a Calosso a Nizza Monferrato, invece il consueto mercatino mensile dell'Antiquariato, domani sarà ancora più ricco con l'esposizione ed il convegno di numismatica e la mostra di orologi. Con questo da Asti è tutto, grazie per l'attenzione e restituiamo la linea allo studio.